Una sfida che stiamo vivendo ogni giorno in maniera crescente è l'impennarsi di una patologia che un tempo vedevamo in maniera decisamente più sporadica. Mi riferisco ad un tumore particolare che è il tumore della tonsilla e della parte occulta posteriore della lingua, che noi chiamiamo base lingua. La tonsilla palatina, quella che viene tolta da bimbetto per capirci, e la parte posteriore della lingua è costituita da tessuto linfatico. Questo tessuto linfatico può essere colonizzato da un virus che si chiama HPV, che oggi sta diventando un tema di crescente importanza. Questo virus che infetta molti soggetti, in una piccola minoranza di casi, ma comunque significativi, induce la formazione di un tumore, che è un carcinoma della tonsilla, carcinoma della base lingua. Questo virus viene trasmesso sessualmente. Quindi c'è uno scorcio che, diciamo, supera in un balzo le conoscenze classiche che vedevano il tumore della testa e del collo, rigorosamente legati ai tilisti e a forti fumatori, che avevano questo tumore in tarda età, perché l'accumulo della sostanza chimica nel corso degli anni di fumo ed alcol, produceva in tarda età un tumore che tipicamente si inscriveva su un soggetto che era, per altri versi, defedato dal fumo e dall'alcol. Quindi erano soggetti cirrotici, soggetti con bronchite croniche, anziani. Oggi questo cliché è completamente cambiato.